Scandaloso, ogni tanto può laggare, non lo so. Questa è una prova. Ah sì, si fa le prove. Come va, va. Come va, va e pazienza se non va. Ok. Capitano a me le... Tipo ieri... Siamo con il DVD. Ok, io sono pronto. Tipo me ieri si è interrotta perché Tim ha deciso che la connessione deve andare via, va a fare un bagno. Ok, allora, io l'ho sempre detto che mi sta sulle palle streamare DVD e visto che sono Mr. Coerenza, inizio con il DVD. Ok. Ah, perché c'è Criu, perché c'è Criu, dai. Dai, dai, perché... Comunque... Il suo gioco preferito, quindi... Non mi ricordo quanti pippa avevo i progressi dal cacchio, ma in teoria non me li ha tolti. Non mi ricordo. Ok, allora, io torno a far qualcosa dopo che... Proprio questo gioco qui mi ha sfasciato la scheda video, ora sono tornato operativo. E se vi siete persi la roba è successa nella mia live? Cioè no... Durante la live di Criu93 stavamo giocando a questo... A questo silos di merda e durante quella cosa, adesso mi banano, Durante la sua live la mia scheda video è partita. In diretta, proprio. Cacchio di Gio... No, è perché ho ottimizzato un po' male. Sì, sì, perché guarda che a me fa arrivare a sett... Adesso però dai, non diciamo che è colpa solo del gioco se mi è partita la scheda video. Ce l'avevo già un po' messa male di mio. Mi ha dato il colpo di grazie, diciamo. Perché tipo, a me fa scaldare abbastanza come gioco e non è che c'è tutta sta grafica di BD, eh? Per dire, qualcosa di... Di fatto male ce l'ha. Poi ricordo che tipo... A Zeb se fa il killer lagga. Allora, questo gioco è... Diciamo che è stato il primo del suo genere, dopo che è stato accoppiato un po' di volte. Sì. Quindi c'ha dei lati positivi, senza dubbio. È stato accoppiato da giochi tipo White Noise, anche se per dire, a me non piace per niente. White Noise 2. No, io non l'ho mai provato io. Quello di... Di Jason, di venerdì 13. Sì. Ah, c'è la cantante, c'è Sanremo, eh? Attenzione. Sta venendo qua. Ok. Perché qua è qua. Sì. Perché Sanremo è Sanremo. Ok, inizia da me. Ovviamente. Ovviamente. Ovviamente col cazzo che mi prendi. Io da coglione faccio un totem, così. Perché l'aspetto qui, l'aspetto qui. Eh no. Non ce l'ho fatto sto... C'è il volume alto del gioco, lo abbasso un po', adesso appena... Appena mi tolgo! Questo essere di torno. Grazie che me la stai portando. Cazzo! Ok, Crew93 ha voluto fare il galante. E si è preso lui carico della signora, quindi ha voluto fare il galante. Si è preso carico della cacciatrice. Grazie. Prego, prego. Intanto... Peccato che... Trattala bene, trattala bene. Io intanto abbasso un attimo il volume del gioco, perché è troppo alto. Quindi scusate un attimo, intanto lui si è preso carico della signora. Ma... Ma sono crashato solo io o anche te? No, no, anch'io. Mentre stavo abbassando il gioco è uscito il mostro. È uscito il mostro. Evidentemente è stata subito eliminata da Sanremo, dopo è durata poco. Non è stata una gran canzone. Vabbè, io ho salvato il punto. Io ero lì, tutto preso, che stavo abbassando il volume del gioco. È così che si sfugge dalla cacciatrice. È così che si sfugge dalla cacciatrice. Scappi così bene che la fai a legge quittare. Ma dai, ma... Peccato, peccato. Ero lì che, dai... Perché io... Io ero stato poco galante con lei, invece tu magari ero un po' di più. Vabbè. 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 Ah, cos'è? Ma c'hai due hikes? Ah, no, è un bug! Eh, questo qua... Ti presento un bug di DVD. Se mi... Non lo conosco, lo conosco. Eh, se mi inviti mentre sono ancora nella... Nella pagina dei punti, succede sta roba. Stai entrando perché non ti vedono la lobby. A me... No, io sono crashato. Allora, esco. Peccato perché c'era Peppone nel lobby con noi. Eh, rimetto Claudia. Allora, ti reinvito. Probabilmente il bug non ti fa manco entrare in lobby. La mia voce è sempre normale. Sì, 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 sì. Come sempre. Spero che stia procedendo bene senza laggarti a roba di oggi. Ma in teoria così dovrebbe... Dovrebbe andarsi... Magari facci un salto a guardare. Sì, sì. Solo che c'è il telefono. Sicuramente questa è la prima quindi si fa quel che si può per la prima. Allora... Sì. Sì, perché sì. Sto guardando. Ok, sì. Ma si vede bene. Sto guardando adesso. Senza audio, ma... Vabbè. Eh, che cacchio metto, porca trotta. Di sicuro io non metto l'istituto commemorativo ledi perché non lo sopporto. No, è anche questo. Dai, ping! Buono! Eh, io con lei le sto un po' finendo le offerte, quindi... Eh, io sono puttanato. Vabbè, mettiamo questo. Eh, però siamo in tre al momento. Attenzione perché con noi c'è... Toxic Retard. Non c'è più. C'era. Hai messo la bussa gialla, te. Ma che cazzo fai a saperlo? Ti ho visto dalla... Ah, io la tua! Ah, è vero! Ah, ma io non lo sapevo che ero ancora lì a sbirciare. Io pensavo che... Sono un cheater, vi dico la verità. Ah, vabbè, io pensavo che l'avevi chiusa, invece ero ancora lì, sei lì che guardati. Ero lì che guardavo. Se andava... Ma sì, ma va, 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 va. Vabbè, l'importante è quello, con questi cazzo. No. La pasta gialla. Ah, io ho messo... Ho pensato... Ho pensato che tu fossi un... Un cracker, tornati. No, no. A me i cracker non piacciono. Dopo, dopo ti segnalo. No, ma me l'hanno già dato del... Del hacker. Vabbè, ma in sto gioco qui ci sono i peggiori al mondo. Se tu vinsi, sei un sito a prescindere. Ma pure da survivor. Un survivor mi ha accusato di essere... Un hacker un'altra volta mi ha accusato che ero d'accordo con un killer che era pure tedesco. Che come cazzo facevo a essere d'accordo con un tedesco? Solo perché lui mi ha preso per... Magari, magari. Mi ha preso per ultimo. Solo per quello. Ti segnalo. Eh, va bene. Segnalami. Metti una segnalazione in più nella mia collezione. Ah, perché sì, sì. C'è stato un periodo che tutti mi scrivevano. Ti segnalo. Ti segnalo. Eh, segnalami. Attenzione, siamo nella stalla danneggiata. Oh, isa. Allora, speriamo che non ci sia la... Ah, no. C'è il contadino stavolta, eh. Eh. C'è il contadino. Iniziamo a fare sto generatore che prima non abbiamo fatto in tempo a fare niente e che subito... La canna ma sta venendo verso di me, ma dai. Ma ti pare? Ti pare? Che subito debba arrivare a rompere le palle. Allora, questa è una bella strategia. A meno che lui abbia il perk. Se lui c'ha quel perk del cazzo non è più una bella strategia. Eh, tanto ce l'ho io. Ti segnalo. Pensavo che non mi avesse... Che non mi avesse visto. Ma solo via. Fuggite, sciocchi. Ok. Eh, mi ha tirato una laggata. Anca me, anche a me, anche a me, anche a me. Allora è lui. È lui, allora. Meno male, perché io adesso ho la psicosi. E anche io agli inizi, eh. Comunque mi ha perso, è così coglione che mi ha... Non è vero. Attenzione a mancare di rispetto perché potresti essere segnalato. Sì, sì. Rispetto in live. A dire quella parola è stato... Non sono stato io! Oh, ho messo per errore il capsulo. Dopo. Adesso lo tolgo. Poi abbiamo tirato un'altra laggata ancora. Allora. Sì, sì, manca a me le tira. E io ho 16 mega di upload. Guarda lì come si pavoneggia. No, era per dire. Io c'ho 3,7 di upload con il cellulare, eh. Perché se usassi la mia connessione normale non arriverei. Niente. Che paura. Ma vabbè. Dettagli. Dettagli. Allora, io sto facendo... Sto finendo il generatore quello che stavano facendo all'inizio. Io ne sto facendo un altro. Prima che il contadino una volta qui era tutta campagna e arrivasse. Ecco. Manza, uno. Ah, c'ha tanatofobia comunque. Io ho avviato il generatore. Ho visto, ho visto. Ho fatto io. Ok, io tento di salvarlo io, dai, dai, dai. Eh, io sono un vicino, solo che sta venendo verso di me. C'è il vecchio Bill qui con me. C'è il vecchio Bill. Ok, è andato via. Io... No. Si sta avvicinando a culo appeso. Ah, ok. Mi è passato vicino ma non mi ha visto. Ok. È il mio momento. It's the my moment. Ah, no. Ah, scappa. Scappa. No, no. Ma laggala, laggala. È un laggone. Sì, sì, è un laggone. Eccola. Ti ha preso. Ma guarda, mi ha preso dal po' che cosa sta succedendo. Ma... Non sono io. Non sono io. Confermi che non sono io? No, 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 no. Ma lagga, lagga. Proprio il killer. Ma dai. Ho di nuovo messo il caps lock ogni tanto. Scusate, ma... Ma io... Oddio, giullarosso. Ma io... Ma è qua. Non trovo più il mio generatore. Ma prima mi ha preso a distanza di metri. A distanza di metri. Eh, ma perché è un laggone. Ma è stato scandaloso. Io ero per te la lui era dall'altra parte. Nel casino era. Ma come cazzo è possibile? Ma un po' laggone va bene, ma non così. Magari è un cheater. Con lo switch lag si chiama. Che lo fa apposta. Non è un tailandese comunque. Perché prima, quando eravamo nella lobby, non sembrava un laggone. Eh, lo so. Quindi. Eh, oh, 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 oh. Una partita. Mi. Quando ho fatto una partita io da solo, prima mi ho messo in una lobby tutta di tailandese e australiani. Grazie a cazzo che li si laggavano. Non era colpa loro. O colpa mia. Allora. 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 Gli altri due sono nei guai. Sì. Ok, ha preso su l'altro. Io provo ad andare a salvare. Ah, non sei tu. Scappa, eh. Ok. Poi ti curo. Ma c'ha, 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 c'ha in spalla. C'ha in spalla Mr. Adam. Ok. Dai che così faccio anche la sfida. Mi mancava solo di curare un cristiano. Ok, adesso questo. Tu ne hai già salvato. Lascia, lascia a me, lascia a me. Il compito. Di salvare. Odesto. Mu arrivo, eh. Arrivo. Vecchio Bill. Come va tutto bene. Dai, salvalo. Perché io sono già di nuovo lì. Stavo un po' casteggiando davanti a lui. Ma no, non ti vuoi far curare. È già di nuovo qua. Arriva. Avrà avuto. No, 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 no. Ce l'ha con me, vai tranquillo. Perché perché ce l'ha con me. Non adesso però. Eh, eh. Culo, 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 culo. Chi culo? Chi culo? Dove? Quando? Perché? Sono dietro? Al kill. No, 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 no. Billo, 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 che ti curo? Ok, adesso non ho più il decisive come prima che mi salva il culo. Stavolta qualche signore deve venire a tirarmi giù. Sì, sì. Ma io faccio il giro largo e arrivo. Sì, ha già visto qualcuna. Sta seguendo di nuovo Billo. Ah, no, adesso spacca il generatore. No, Billo l'ha già perso. Però sì, è lontano ora. Io da qui vedo tutta la mappa, perché ovviamente gioco a qualità ultra. Che non so neanche se è la maggiore. Era quella che c'era? Sì, 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 è quella maggiore. È quella che ho io. Prima non lo potevo fare, adesso posso permettermelo. Te l'ho detto, tra la mia e la tua c'è tipo il 20% di differenza. 20... Tutalo via il 20%. Vabbè, ma qualità-prezzo. La tua cosa... Sì, adesso te sei proprio nel... Tu sei proprio praticamente uno streamer, ormai c'hai il computer buono, connessione buona, e poi hai proprio tutto, tu. Ah, sì. Io c'ho il computer discreto, diciamo, la connessione... Con chi ce l'ha? Boo. Ok. Ma il mio obiettivo, ragazzi, non è sicuramente fare lo streamer, quindi va bene così. Io... Andrò a studiare fra un po'. Allora... No, non venire qua, non venire... Bravo. Ma l'ha già perso? Ma è così deficiente il killer? Cazzo... Allora, mancano due generatori. Il mio audio è sempre ottimo, mi raccomando. Fammi sapere se cambia qualcosa. Appena successe una cosa, perché... E' veramente cieco sto killer, eh? Io mi ero nascosto dentro l'armadio... Non mi ha visto uscire, boh, non lo so, vabbè. Meglio per me. Allora, andiamo un po' a fare un gen, va? E' lui là che l'ha gata? Non sei. Eh, sono dall'altra parte rispetto al killer. Perché lui è vicino a me adesso. No, adesso è vicino a me anche. Eh, ha sfasciato un generatore. Io adesso lo vado a fare tranquillamente. Eh, però se Bill gioca così non va bene, perché non può fare queste cose. Ah, l'ha fatto scoppiare? No, ha scavalcato velocemente quell'ostacolo che c'era vicino al generatore. Se fai così la notifica arriva al... Vabbè, io sono andato lì a fare il gen... Con... E' un altro. Ace fa il superiore, lui preferisce fare il totem. Ma che cazzo? Eccolo. Bravo! Lagga. Sì, 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 lagga, lagga. Bravo capitan... Lagga un botto adesso. Capitan Findus. Dai, tu fai il generatore, io pure. Io anzi, sono con... 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 Con l'Ace Gamer. Bon, capit... Capitan Findus è fottuto, mi sa. E' già stato preso due volte, questa è la terza. Mi sembra che è già stato preso due volte. E invece no. E invece non è vero. Ok, io sto facendo il generatore, quindi se vuoi salvarlo tu stavolta... Eh, aspetta. No, è da me! Però... Ok, sta andando da un'altra parte. Ah no, è lì, lo vedo. Si è lasciato andare! Dai, no, 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 no! Eh, mi ha preso. C'ho prov... Attenzione, Crew 93! Attenzione, Crew 93! Sulla fine mi ha preso. Dai, c'è sulla fine. Ci vedo in lontananza proprio trasportanoio. Adesso, se rimango qua, mi prende. Sono il prossimo. Il nostro compagno dov'è? Eh, qua vicino a me. Killer è andato al tuo gen. Vabbè, ma io... Sulla fine ti... Ciao, però arriva! Non è possibile! Uh! Oh, no, no, non ha preso nessuno dei due. È clamoroso. Eh, ma adesso viene da me. Ah no? No, mi sa di no. È da me, è da me. Allora... Per scegliere tra due... Ha scelto di prendere il palo. Quindi è stato un generoso. Bisogna dare atto alla gente quando... Ah, sì? Tanto io... Ho attaccato al curo. Quindi spero non laghi. Io cura di sé. Ah, curami. Curami! Cazzo sta succedendo? Ma lagga, lagga come un... Non so cosa. Ah, ecco. Ma vedi come lagga? Ma non è possibile! Non è colpa mia! Ma lagga! Ma non lo so! Eh, boh, 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 boh. Adesso mi porta anche in cantina. Allora... Guarda che questo! Guarda! Guarda che questo! Guarda! Non farmi parlare! Non farmi parlare! Perché altrimenti mi trovo il profilo bannato! Ma non ci può laggare così, no? Se c'è la connessione brutta, non fare il mostro! Che cazzo! Dov'è? Andato via? No, io non sento più il cuore. Quindi... Non sai, impietante, no? Com'è che si chiama quello che può star fermo e non si sente? Oppure? No, no, è da... Qualcuno? Sì, tu è l'altro, no? È l'altro. Mi sta salvando. Sì, è il gasato qua. Sì. Vabbè, io adesso levo le tende perché non è il posto da... Anche perché tornerà sicuramente... Sì, sì, sì. Sta tornando da te. Dove cazzo era il gen che avevi iniziato, porca trotta? È qua. Era vicino a quello che stavi facendo te, anche. Non era lontano. Adesso speriamo di... L'ho trovato, eh. L'ho trovato. L'agga. Perché lagga. Ma ora come la guarda? Mi stelle trasporta. Eh, ma che cazzo. Così no. Eh, ma mi hai ritrovato, mi sa, eh. Dai, eh. Cazzo. Ma dov'è? È andato al generatore. È andato nella casetta. Eh, eh, addio. Eh, ciao, 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 ciao. Eh, vabbè, 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 vabbè. C'è il pallet. Eh, l'ha distrutto adesso. Però ancora non mi prende perché c'è qualcuno vicino. Io provo ad allontanarmi, magari l'altro ha un impeto di generosità e viene. Ah, che pezzo di M. Vabbè, ce l'ha... Ma perché non viene a tirarmi su? No, è qui. Eh, no, niente, si è scappato. Ecco perché non è venuto. Bye bye. Allora, mentre io sono... Divinco l'alti... Divinco... No, cazzo. Eh, non ce l'ho fatta. Fanculo. Ok, il lagger ha avuto la meglio. Vai all'altro, vai dall'altro. L'altro è più bello, l'altro è più bello, l'altro è più bello, l'altro è più bello. Ah, sì? Ma magari ce li dici che è più brutto perché riesci a togliere prima lui. Uh, uh, uh. Non capisci che... In mezzo alla cazzata ho fatto la... La bella cosa, eh. Allora, però al punto dovrei aver... Ho fatto 11.200 qui a posto, sti cazzo. Ok. Un altro è più bello, l'altro è più bello, l'altro è più bello. Io voglio la bottola. Bravo. Che è più brutto. Ok, a posto. Sai, dove è la bottola? Non la prenda, l'altro. No. Non l'ho vista. Curati, curati, curati. Sì, si stava curando prima, quindi sì. Vai! Che scarso, che è stato. Quei sensi proprio... L'ho lasciatolo lì così, è nato lì. Cazzo, è qua. Ok, ovviamente, visto che io sono nell'aldilà, facciamo parlare a più 93 adesso. Vabbè, t'ha visto. No. Dai! Eh, vabbè. GG. Oh, prima o poi mi doveva... Doveva prendermi, prima o poi. Ma tanto il punto l'ho fatto. Da, che brutta roba. Eh, vabbè. L'ho trollato fin troppo. L'hai fatto? Vediamo un po'. Sì, vabbè. Hai fatto... 13... 13.800. Eh... 2600 più di mercurio. Vabbè, solo con Mr. Adam l'ha perso. L'ha perso? Il pelo, ecco. Mr. Adam. Ha fatto 6700, quindi 6700. Che sfiga. Allora, c'è la tanatofobia, aveva pensiero di un infermiere, ecco, perché si vedeva. Il Noed aveva anche. Ah, pure? E, e indovina un po', provo a dirne una a caso, l'ultimo. Il memento? No, è quello... No, no. È un infermiere. Cosa aveva? Il primo che ti viene in mente. Rovina. Ti viene in mente del mondo. Rovina. L'avresti saputo. Ah, già. Barbecue. And chili. Eh, ecco. Bravo, vieni a darmi il colpetto. Ma che bravo che sei. Oh, che bravo cucciolone che sei. Ok, dai, posto. Allora, facciamone. Sono finalmente morto. Dopo una trollata del gen... Dai. Poverino. Ho fatto 14000. GG. GG. Vabbè, il punto l'abbiamo. Da, Alex. A me non mi deve capire più un casto dei punti, dire il vero, perché tanto... Non ho già fatto... Minchia, ho 116.000. 1006... Ho veramente mesi che non gioco seriamente a questo gioco, io, quindi... Aspetta, mi metto solo una puttanata, tipo... Ah, mettiamo la cassetta, vaffancuccio. Eh, però... Oh, dai, che cinese fletta. Dai, 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 dai. Forza, forza, forza. Forza, ah, dove è tu andare a fare l'estetista? 5 euro lo taglio di capelli. Ti lavo con shampoo. Adesso, per queste cose che stiamo dicendo, siamo bannati da DVD. Ah, già, perché stiamo prendendo in giro. Non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa. Eh, no, eh, no, no. Allora. Attenzione, perché per ogni cosa qui c'è proprio il rischio ban. Quindi non si scherza di certe cose. Allora. Facciamo il genero. Questo come è messo a ping? 109, 114, vabbè. Questo non dovrebbe la cagare come quello di prima. Speriamo. Allora, cosa c'è in questa pagina? Ok, questo lo... Tu e il russo ti fate attendere. Eh, adesso piglio subito. Ok, ma quanti solo tu? Addirittura il detective è pronto. Stavo livellando un po' i punti. Abbiamo un po' le offerte di oggi che stavolta non hai sbirciato. Uuuuh. Ottimo, uno ha fatto lo stra... Già io sono stato generoso che ho aperto la busta. Uuuuh. Io c'ho il 285% in teoria. La busta non dà 10? O il 15? 15, 15, 15. Allora, 290% io. Allora, siamo in una lobby proprio di generosi qua. Quanto scommetti? Sarò il primo a morire. E mi campera. Prima sei stato l'ultimo. Prima, prima. Ma una volta che ho giocato... Positivo. Ho giocato per cazzi miei. Abbiamo offerto in quattro il coso del 100%. Prima a essere preso sono stato io. Mi ha facecamperato e sono morto. Praticamente il 400% è servito a niente. Speriamo che non ci sia una bella cantante. O peggio. Non siamo interessati all'offerta perché noi preferiamo ragazze un po' carine e non quella lì. Speriamo che stia davanti a fare. Ecco la mappa di me. Oh che palle. Io la odio sta mappa. Allora. Sì, questa è... Ecco, c'è, c'è. C'è l'urlatrice, c'è, ok. Eccolo qua, Bartonell. Sono dietro di lei. Ah, ma è già qua? Eh, purtroppo. No! Non arriva proprio davanti. Oh, che... Meno male ha fatto la scelta giusta. Ha fatto la scelta giusta. Meno male. Meno male. Meno male ha avuto un po' di buon senso. Meno male. Dai. Dai, tra i due, tra i due, bene così, tra i due bene così, ok Bando alle ciance, ora se la porti via Ne ha già perso No, ma no, ma no, ma dai, non c'entro niente, io era qui il colpevole E lui che ta rifiutaccio, non sono io, vada via, vada via Non c'entro niente io, forza, dai, forza Meno male, meno male, ma ha già perso, ok, meno male Facciamo i conigli, facciamo i conigli No, dai, no Ok Meno male che su due ha fatto zero qui, ottimo Ottimo Fuu Qua anche Adesso inizia alla, fa le generatore, ok Blava, blava Ah, c'ha rovina, c'ha rovina, eh Rovina è, è una merdata se hai il pezzo nuovo Un'altra volta l'ho sprecato io per colpa di rovina Io lo sto facendo Oh, lo sto facendo Avrei sbagliato, ma non ho sbagliato Io lo sto facendo scatti Grande Bravo, bravo chiunque sia stato, ottima mossa Il mio perk tecnico mi ha salvato Adesso ovviamente, oltre ad averci tolto rovina dalle palle Si è anche accollato la signorina Meno male, meno male Bene È così che si fa Abbiamo trovato un altro signore galante Che ti ha preso cura Meno male Meno male Perché io in questo momento non ne ho alcuna intenzione Ah, io ne ho anche Quindi Ah, la volpe cattiva è stato copreso Evil Fox riuscirà a scappare? Lo saprete in questa live Io sto vedendo la scena Io ho fatto Eh, ovviamente lui sta cercando di portarla da me Mi sa Io ho fatto il gen Sto finendo un generatore Però è andato dalla parte opposta Sono Ah no, quello sei tu, Claudette Si Che sale sulla No No, no, io sono Siamo due Claudette Ok, io ho avviato adesso il generatore Sei qua che arrivi Sono quello che sta facendo il gen Ok, non ce l'ha fatta a scappare Però l'ha tenuta impegnata Ha fatto il Il protem Quindi ottimo lavoro Bravo, bravo Colpe Eeeh Pensa non verremo a salvarti Perché siamo alle prese col generatore Ho due partite su due Che comunque non sono l'ossessione Nonostante il colpo decisivo È possibile che L'ha messo Ah no, l'ha messo laggiù Noi tutti a farci i cazzi no No, no, senti qua Vabbè abbiamo finito Adesso dai un secondo Ok, ci siamo Yes Ne manca solo uno Siamo stati anche veloci Quei generatore Adesso viene qua Almeno non camper Probabilmente Non guardare me No, guarda proprio me Invece Non mi interessa la tua proposta No, non mi interessa la tua proposta Non mi interessa la tua proposta Non No, 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 no Vieni, 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 vieni! Non andare verso il tizio. No, 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 sono bravo io. Eh, ma è finita per me. Per me è finita. Ecco. Eh, vabbè, dai, l'ho tenuto un po', l'ho tenuto un po' occupato. Almeno l'ho curato. Non mi interessa, io, 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 io non cerco vecchie MJ. No, 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 no. Ma dove mi può? Non mi di che c'è il basement qui, no, non ci sto. Non ancora, non ora, non ora! Tienila, tienila che stiamo facendo l'ultimo gen, eh. Siamo al 80%, tipo. Eh, tienila, è facile a dirci. Eh, lo so. Tienila, sono attaccato al culo. Ma... Adesso dovete venirmi a salvarmi nel basement, sti contenti. Mi fa piacere. Eh... Eh, mo ancora peggio, eh, mo ancora peggio. Ma adesso mi campi, era sicuro. Sicuro che mi campi. Dov'è il basement? Allora, almeno uno di voi, almeno uno di voi venga qui. Eh, sono... Eh, ci sono io, ci sono io. Eh, perché gli altri due sono proprio... Una sta aprendo l'uscita l'altro e lì fa... DAI 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 DAI! Apre l'uscita, apre l'uscita, dai! Eh, eh, io rimango qui, perché per forza. Cioè, cosa vuoi fare? Oh! Cosa vuoi fare? Dio. Eri la mia... Unica speranza. Dai, andatelo a salvare, andatelo! Se hai segnato. No. Uh, che liscio! Dai, su, forse uno arriva, dai. Eh, ma torna indietro, ma dai! È impossibile. Non l'hai tenuto abbastanza, devi far passare ancora un paio di secondi. E vuole me! Per forza! Ma che vuoi che voglia? Sono io quello che vuole! E per forza, è così, è così! Dai! Che troio! Eh, niente. Eh, niente. Addio. Non ci siamo, non ci siamo. Quest'oggi non mi va niente di culo qua, eh. Ah, perché attenzione, deve dare la parte opposta. Ah, uno è già scappato. Ah, ma anche l'altro, mi sa, eh. Lo sei tu quello là, all'uscita. Ah, all'uscita ero io? Sì, perché ne ero andato a curare. L'altro si sta curando, adesso. È lì vicino a te? Sento il cuore, sì. Non so dove sia, però. È sopra, la troia. Ah, ma tanto me la camper adesso. Altrimenti gli scappano tutti. Oh, siamo in due. Stiamo provando a venire. Dai, arrivano i nostri. Con chi ce l'ha adesso? Il tempo scorre, inesorabile. Da dove cazzo si scende in sta merda di cantina, porco Giuda? Da sopra? No, 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 no. Contro la rovescia, inizieranno un uomo breve. Eh, ma non... No, non è sopra, no, 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 no. No? È la parte sotto. Eh, ma poi. Ciao, vabbè, vai, scappa, tanto. E niente, io ci ho provato. E quindi la coscienza è a posto. Ah, io ci ho provato. Eh, ma ha camperato. Eh, sì, era sopra. Vieni. Dai, dai, dai. Vediamo i punteggi, visto che... Vabbè, io ho fatto 8200. Ma aspetta un attimo. Io sono uscito, ma mi sa che ha preso l'altra. Ah, no, è uscita. Grande. No, no, no. Ok, va, 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 va. Quanto ho fatto? Ma scu... Ma scusa. Ho solo salvato il punto? Eh? Eh? Hai fatto troppo di un... No. Ma... Ma che ti riesco? Ma che ti riesco? Boh. Mi ha detto che ho salvato solo il punto. Con 15.000 se salvi solo il punto? Allora non so che cazzo devi fare. Beh... Evidentemente... Ti hai fatto il... Allo stesso tempo hai fatto il punto. Eh, per forza, dai. Gioco di M. Attenzione perché ti bannano. È il gioco di merenda, volevo dire. Perché se tu osi dire che questo gioco... Se tu osi di qualcosa o contro gli altri utenti di questo gioco, che dici che questo gioco è un Vespasiano... Eh, dopo... Dopo ti bannano. Eh, già. Non puoi. Non puoi. Peggio dei comunisti. Non puoi dir la tua. Non puoi fare un ca... Eh, beh. Qui c'è... Attenzione. Non... Non devi dire niente. Non devi dire niente. Ma allora adesso io... Faccio le gogui... Cacchio... Ah, prendo questo... La torta! Guarda, guarda qua. Vai... Vai a sbirciare cosa ho messo, se vuoi. Aspetta, eh. Sto livellando... No, è troppo tardi. Ormai... Ormai sarà sfuggito perché ho fatto un... Toccate fuga proprio. Dai, offro... Dov'è? Dov'è? Più 90 atleti, stiamo aspettando te. Allivo, allivo! Attenzione... Linguaggio perché... Allivalle! Io essere cinese... Flegale... Paese. Hai messo la torta a te? Eh, io sì... Un po' di egoismo. Volevo metterla pure io, poi ho messo il rametto. Ha tolta! Eh... Allora... Adesso però se ne riprovi... Perché... C'è due partite... Due schiattate... È una cosa che non deve accadere... Insomma... La prima abbiamo... Abbiamo vinto... La prima... La prima abbiamo vinto... E che vittoria... Poverino... Ma dai... Vittoria proprio... Non pu... Non puoi ragequittare perché non riesci a prendermi con la cantante... Tra l'altro ho imparato un po' a usarla... L'ho provata... Un altro giorno... Questa volta che sono io l'ossessione... Io no... Mi sento già al cuore... Cioè appena iniziamo già al cuore... Io ho trovato un gen... Dentro la baracca... Dello zio Tom... Oh oh... Ho intravisto una sagoma... Chi è? Non vorrei dire ma... Direi proprio che è il palazzo con la motosega... Nooo... Bon... Allora io sono... Proprio lui... Proprio lui... Proprio lui... E non son capace a scappare da Leatherface... Io con estremo coraggio... Ma perchè bisogna avere i chi coglioni sotto... Bisogna avere... Eh già perchè da me... Sto a me vicino... Ah dov'hai passato un attimo fa... Io che cazzo ne so che è da te... Non smontare il mio coraggio... Andogazzo sei! Funzione... Oh! Attenzione non prendere in giro... A Romani... Perchè dopo... Vieni bannato... Distantaneamente... Da... Dbd... Ondogazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Attenzione ora... Passata da Romano al Napoletano... Più o meno... Che cazzarola vele! Pirla! C'è un pirla! Sì, sì... Perché... Non lo portavo nel capannone centrale... No! Ma dai! Ma non è possibile! Ma non è possibile! Dai! Va lassù! Eh boh! Eh boh! Dai! Un po' a ciascuno! Che cazzo ne sapevo che eri in mezzo al capannone? Ma pure... Ma pure hai fatto cadere il kit medico! Ma no! Lag! Ma ti ho dato una laggata! A me ha fatto cadere la cassetta! Ma pure... Sì addio! Sono attaccato al dietro! Ma è andata bene! Siamo ancora sani e salvoli! Siamo ancora salvi e salvini! Non è finita! No! Solo dietro! Solo dietro! Eh! Stavolta però mi prende! No! Io sto facendo... Sto facendo il tuo gen! Ma dai! Mi ha fatto la fregarella! Mi ha fatto! Io spero di poter pareggiare la sua fregarella adesso! Ma che faccia? 1 a 1! Attenzione! Palla al centro! Dai che... Un altro gen è fatto! Wuhuuu! E qua! E qua! Uh! Zitto! 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 E qua! Uh! Ti ha perso! Ti ha perso! Perché sono un fenomeno! Ma cosa vuoi? Sei un fenomeno! Eh! Eh! Però sento ancora il cuore! Sì io anche! Mi ritrova! Mi ritrova! Ma... Dai! Che... L'ho visto in diretta! C'è gli ho dato proprio il colpo in faccia di quelli! Dai che se non mi becca io ti salvo! Sono qua dietro al fieno! Sta andando via! Ho visto! Ho visto! No dai! Aspetta! Aspetta! Venga! Venga oltre! Venghi! Venghi! Ok! Poi... Io adesso scappo! Tu rimani qui! Ti fai prendere! Eh! Sesto! Sto! 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 Ma non ho trovato l'ingresso! Dri. Meno male Eh l'altro la vedo dura però Anche perché è qui lui Oh non ho trovato l'ingresso davvero Ma dov'è? Ah qui cazzo Vabbè dai scusami Trickster Meglio tardi che mai come si suol dire Va bene? Dai va bene Peace Eh però mo' arriva Si sta arrivando eh Eccolo la La presa. Eh addio Trickster ci lascia temo Boh io meno male mi son curato Mi spiace Trickster Non vabbè Trovassi la cassetta dove cazzo? Uh l'ho trovata È là Il lag mi ha fottuto Fanculo Come sprecare un pezzo nuovo? L'avete visto tutti Noi dobbiamo fare qualcosa Io ho sprecato il pezzo nuovo Perché mi ha tirato la laggata Proprio nel momento utile Bisogna tirare sull'altro Si Mi ha tirato la laggata Proprio nel momento utile quindi Cazzo Niente Uh ce l'hai fatta Spostati Grande No l'ha ripreso Eh purtroppo io ho sprecato il pezzo nuovo Perché mi ha tirato la laggata Proprio nel momento in cui lo stavo usando Dai che magari l'altro riesce a scappare Io non so è già morto se lo appenno o no sto qua Ma non credo No Tu dove sei? Eh sono vicino al coso Sei vicino a lui? Sì Però mi sa che mi ha visto Eh si è lasciato andare Un altro sveglione abbiamo avuto qua Ma perché? Vai vai fai un gen Fai qualcosa Intanto ce l'ho io Eh me l'hai portato Ah Porco Giuda E saperle le cose Ma purtroppo sono vicini Questi due generatori Quindi Non è una gran cosa Tu 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 Vabbè ti entro un po' con te Fate amicizia Io intanto se avessi avuto il pezzo nuovo avrei finito Ma il problema è che l'ho sprecato Perché mi ha tirato L'ha laggata proprio quando lo stavo usando Ovviamente Il culo è dalla mia sempre Dai Vabbè stai tenendo botta però Eh per ora Vabbè continua così Se resiste ancora dieci minuti Eh la miseria Adesso faccio un totem con calma No no non portarlo qui Ma qui dove Dove ho appena fatto la botta Eh ma c'era ancora io eh Ovviamente il pair che stavolta non mi ha salvato Niente quando non deve andare non va Eh beh Vabbè Ma stai facendo veramente il fenomeno Attenzione Dai dai ormai ci siamo Dai Cinque minuti No vabbè Adesso si riesce a scappare Non lo so Io sto prendo un'uscita Ce l'avevo proprio dietro Dove ho avviato il generatore No ma Siete vicini No Ma cos'è ma Ce l'hai ancora dietro Si si Ma allora che cazzo Non mi hai dato il tempo di aprire l'uscita Apri 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 Eh cazzo È quasi aperta No ho fatto Che culo È aperta Venge qua È quasi sei quasi Creo dai forza Creo dai Che ce la puoi fare Si che ce la fai Dai Dai ti vengo dietro Corri dai corri corri Metti lo scappare Dai 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 F***a te Trollino Trollino Gigi Ma proprio questa qua Gigi Gigi Questo killer è Scarso È troppo lento Ma è troppo lento lui Ma se è un culmine L'etherface Ma che cosa dici Ma c'ho a fare Ma cosa È lento Ma Ma sua nome è lenta Dai Sì 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 Diciamo che Più o meno Non sta accettando La sconfitta Diciamo Sta dando la scusa Che non è Lui 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 Ti avrebbe preso Il problema è che è lento Sì 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 È il più È il più veloce Ma È il più veloce Tra i killer Secondo me Però Un'altra La facciamo Sì sì Stavo Sbloccando Due cazzate Questa partita È finita bene Dai Minchia S'è finita bene Ovviamente Il merito È tutto mio Perché Ho fatto il generatore E ho aperto L'uscita Proprio Minchia Io l'ho tenuto Tre Tre anni Sto cazzo Di killer Quindi Non me ne frega niente Di sabotare Dai Metto una bella cosa Così se c'è l'etherface Siete vicino a noi Ci uccide tutti i quattro assieme Per finire l'opera Abbiamo trovato la cantante Abbiamo trovato l'etherface Abbiamo trovato L'infermiera urlatrice Per finire l'opera Manca solo Michele Ci abbiamo trovato tutti No manca anche Ah ciao Ricky Non l'avevo visto Ciao Ricky Eh c'ho il telefono Con la chat Lontanissima Non l'ho visto Excuse me Eh pure io Pure io Porche che miseria Non prende Cazzo Comunque cos'è che volevo dire Eh ci manca anche Freddy Da incontrare E poi va Poi va bene Il mitico trapper Oh sto giro Io ho messo pronto Ok Anche te Aspetta Ma da me è buggato Dice che uno Non l'ha messo pronto Ma in realtà Ma in realtà l'ha messo Perché io Avevo tolto il pronto Proprio nel distante In cui Ah È stato messo L'ultimo pronto Qualcuno ha offerto Il sudario Eh io 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 Che non si gira Non si gira da me L'ho offerto io Allora Ricapitolando Abbiamo incontrato La cantante di Sanremo Abbiamo incontrato La statua Il Leatherface Abbiamo incontrato L'urlatrice L'infermiera Lì Mi penso Se si manca Suono Michele E abbiamo trovato Tutti Peggiore Anche Freddy E se lo sanno usare Rompe abbastanza Le balle Specialmente Se non Tipo io Non sapevo Che se Ah no È vero Manca Manca La maiala Minchia La maiala La maiala Sì Quando ti fa gli agguatti Nella mappa di merda Poi Ah già non posso dirlo Porca Cazzo Adesso ti bandano Il problema è che L'hai detto Anche nella live Quindi adesso Banno tutte e due No La mia Io Su Twitch Mi chiamo Crew93 Tutto in maiuscolo Creatore di DVD Anche le lettere In maiuscolo Cercatemi così Porca puttana Ah siamo vicini Eh già perché ho messo Su Dario Anche io Sono Pizio Sotto Sotto Dittatura Ma Si possono dire Certe cose Eh no La calma Questo è un gran gioco Questo Sì sì è bellissimo Chi l'ha creato Gioco dell'anno 2018 2017 2016 Abbiamo ancora Rovina Tra noi Ah sì E abbiamo Porca Chi è stato L'altra L'altra Ecco No 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 Adesso con chi se la prende Ah è vero Il Manca il dottore Non ha scelto me Grazie Grazie Dai ma non puoi Allegria Allegria ve lo porto qui Guarda Beh è lì È lì Cazzo Ma ce l'ha con me Ce l'ha con me Vai tranquilli Vabbè Oh no Ho fatto una provata Non ho finito tutto Non è possibile Ah vai ce l'ha con me Andate tranquilli Ah io vado di nuovo In là A fare il gen Dai ma Se così si può dire L'altra Cloudette Dai non puoi far scoppiare Il gen La minchia Che la gatta Ah ma me lo stai portando qua No ma ce l'ha ancora Ce l'ha con me A distanza Oddio Esce ogni tanto Uh non mi ha visto Non mi ha visto Ha perso tempo Scalciando il gen Ok vai vai L'ho passato a fianco Adesso Ma co Ok l'ho trovato qua Ah sei tu Ma Bene Posso andarmene allora Ottimo Ma scusa Non portarlo Sempre dove No ma non ce l'ha con me Ma io non capisco L'ho lasciato andare Perché ne ha scoppiato Il generatore Scusa No io sono a livello 3 Porca troia Mi tocca Eh anche questo è palloso È palloso Abbastanza Se continua a fare Le scosse Sì Eh c'ha rovina Bastante E l'assennamento Riuscì Bisogna trovare il token Il mio cane ha tirato Una scorreggia Ma doi Che schifo Porca puttana Meno male Che nelle live Non si sente Anche l'odore Arriverà Ok io ho fatto il zen Bella lì Ciao Buonanotte Meglio tardi Che mai Ecco Vedete Crew che corre Non dovresti correre Corri Corri E già Che qua Eh qui vicino Sì Salve Ogni tanto Il perco mi salva Uno che salva Quello Quello È l'altro Spero Se no vado io Aspetta Bravo Dov'è Io debbo finire qua Eh ma è camper Come camper Non me lo dì Dovevamo ancora incontrarlo Il camper oggi Dai Sono qui Sono qui Vieni Vieni Dai che c'era con me Eh però Rimane lì Guarda che basta Rimane lì Cazzo di camper Mi devo togliere La merda O no? Sì Eh non vale la pena Partiamo solo tempo Ma visto Ma visto E tanto fa finta Di rincorreti No 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 Fa finta Ti maledice solo Lì Ti lancia la scossa Di merda E E basta Mi dispiace Dai Adesso Non puoi avermi Ma vaffan Sono tornato di nuovo al 3 Dai non può Dovrai sudare le fatidiche Ah è vero Che c'è Questo ti rende anche I pallet Finti Sì Non ancora Ti ho detto Che dovrai sudarti Le fatidiche Ma vaffanculo Chi ce l'hai Che tanto lui è dietro a me Ho sbagliato Gen È quello Ma no Dai Ma no Addio Goodbye Goodbye Eccolo Non ci sono più pallet L'hai già usato Lo strike No Dai vieni qua Dai Sto facendo scoppi Devi sudarti le fatidiche Ancora Non ancora C'è C'hai da fare C'hai da fare Ancora c'hai da fare Dai vai Tranquillo Niente Non lo distrago Ho fatto scoppiare apposto Una volta il gen Ma Ma tanto ce l'ho attaccato Al culo Sempre Ma poi sai Che ti può mettere La lucina rossa Che ce l'hai Ma porca troia Che ce l'hai Che c'ho la lucina rossa Che non è detto Che è lui Che ti insegue Io una volta Ho scappato tre anni Ma mi devo togliere Come Non posso Non ce l'ho ancora Al massimo È qua Uh aspetta Vieni qua Eh ma Sta spaccando il generatore Nasconditi Che se ti vedi Non mi prende Su Eh infatti T'ha visto Ma che cazzo Ma che cazzo No non volevo tirare Il coso Però Lo tira Eh adesso mi piglia Tu curati Cazzo Io è quello che sto facendo Ma eccolo Adesso vediamo C'è l'altro L'altro corre dalla parte opposta Non mi dì che ha visto anche lui Eh mi sa di sì È finita allora Sì Niente ho fatto la cazzo Prova la bottola Ho fatto la cazzata Volevo fare la La furbata invece Forse Allora proviamoci chiaro Io Mi hai inseguito per Per un sacco di tempo A me comunque Io Avete fatto Tipo due generatori Mentre seguiva me Sì La ferita Sì È finita Sta venendo verso di te Eh la vedo La vedo Solo che tanto Mi hanno calpestato Ho visto Questo è il rispetto Questo è il rispetto Vabbè Ora che Forse Forse Forno Ah sì Ora che mi sa che l'ha perso Non lo so Il problema è che questo Cioè Quando ci sono le apparizioni Le visioni Ti vede Quindi Ah sì Non lo sapevo Sta cosa Eh sì È la presa Quando tu vedi La visione Che non è lui Ma la visione Lui vede dove si Doveva fare la sua visione Quindi capisce più o meno Dove sei comunque Cazzo Dai Cerchiamo la bottola Eh te Io Io a breve Vabbè Guarda che non hai Tanta Meno vita Rispetto a me Ma dipende Se prende prima te O prima me Sei più vicino te Però Tanto ci vede Perché Abbiamo le visioni Quindi Viene da me Cerchiamo la bottola E il dottore Do 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 Gen di notte Do 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 Con gli occhi Do 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 Eh non so dov'è la bottola Do 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 Eh lui però Dove ero io Lo sapeva Mi è proprio arrivato A colpo sicuro Cioè Poteva anche Mare il cacciatore Di cervi Oltre al fatto Che aveva la visione Oh io mi Culo a me Sto cazzo Culo a me Due Sto cazzo Culo a me Tre E sti grandissimi Cazzi Viene Dai dimmi Che dentro la casa La bottola Ma ci sono passato Prima quando mi seguiva Non l'ho vista Cazzo Se dici La costruzione centrale Eh se Quella Oh cio Inutile Dai Metti che hai il culo Di trovarla Mi lascio andare Tanto fra un po' Muoio Dovrei averlo salvato Il punto io Io non lo so Eh la categoria Foraggio L'ho fatta piena Addirittura Io ho fatto 9889 Noove Allora Per un po' Un po' Lo facevo pure Tu hai fatto 8144 Ti l'hai salvato Dai Ma sei ancora vivo Tu Sì sì È lì Perché Ti lascia proprio lì Vabbè Vabbè ciao Ciao Oh prima o poi Sarei morto Dai Ok dai Il tempo Per un'ultima Maitre necromanciano Ma va Cagare dai E vabbè Una partita Ale Certo che anche te vuoi provare Allora non ci tieni proprio il tuo profilo dpd Non puoi dire certe cose Non si fa Sì che si fa Mamma Ora che controllano tutte le live Che vengono fatte su sto gioco Allora auguri Hai detto una cosa brutta L'altro giorno ho dato A uno di testa di maio Mi banneranno per quello Magari Ma è colpa di Di sgarbi Avevo visto un suo video Che continuava a dire Testa di maio Così Mi è entrato in testa E allora Mi è venuto in automatico Il posto di testa di K Ma il ping come lo vedi Già Verde Verde Eh non ce l'ho il pezzo nuovo Mi sembra che no Siamo a sti livelli di povertà Non ho il pezzo nuovo No Iniziamo lontano dal mostro Innanzitutto Perché bisogna farle per bene le cose Pezzo nuovo E studare che si parte lontano Ah già ma ho già messo pronto Sono un co Come lo sono A volte Metti il sudario Per iniziare lontano Dal mostro Ma ti arriva allo stesso Per tutti Non direi che Io ho dato la busta Mi sembra Uno Ha qualcosa di bello E uno Non me l'ha girato E quello che non te l'ha girato È il mio Mi ha messo il sudario Perché è per iniziare lontano Dal mostro Adesso come minimo Visto che hai fatto bene Ti mette attaccato Il mostro Ecco Lucky Attenzione Così Visto che l'ho chiamato io Sembra che sia mio il cane No è mio il cane No ma era strano È che non l'ho ancora abbaiato Era proprio Un altro bel bug Di Dbd Quindi tanto si vede l'esterno Della mappa Così Era come Anche per poi Cos'è stato Sto suono strano Che brutte cose Sento dei respiro Ah boh Chi ci sarà No no Io spero Ok Ce l'ha con qualcun altro Con Janusz 69 Sento il cuore Alla faccia di Ma di Siamo durati qua Eh Yes Fatemelo usare Stavolta Qui dai Abbiamo la cantina sotto Io sono lontano Anch'io Sono proprio Della parte opposta Dove c'è l'uscita Sì ma che cacchio Si Di vincola Ma è pirillo Pirillo Ah bravo Qualcuno l'ha salvato Almeno Tu hai fatto il Jan Bravo Io quasi Eh l'ha ripreso Addio Siamo Siamo già in tre Praticamente Vabbè però Io ho usato il testo nuovo Quindi Un po' per uno Ah io ho quasi fatto Come morio subito Avete visto Come si fa Come in drone Giocare Ma perché Se non tentavo Di divincolarsi Non era ancora finito Eh no no Ancora una volta Oh oh È da me 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 Ma indovina Che abbiamo qui Ma indovina Che abbiamo qui Michele No Maiala Trapperino E chi cazzo c'è Tanto adesso lo vedo Perché è vicino Ah quello che ti sta simpatico No No Porca trota No Il signor Leatherface Ah Ha iniziato con la motosega Io volevo fare Ma senti che versi che fa Ah Ha l'asma È asmatico Ah Gli hai tirato il pallet Non prenderlo in giro Eh C'ho pure io l'asma Potresti essere bannato Per questo Ah già vero Via 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 No Eh vabbè 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 Mi ha detto sì Mi ha detto sì E mi ha dato un colpo Io ho pure Sprecato il colpo decisivo Perché l'ho azzeccato Mentre mi stava appendendo Quindi Eh ma torna Eh lo so Ti ha visto oramai Oramai Cazzo Come ha fatto con quello di prima Se lo prende con una alla volta Finché Finché io sono vivo Tu sei sempre sfiguro Vai vai Che bastardo Io pensavo che colpisse mi Sono sana quei 20 metri E poi torna indietro Eh è qua ancora Vedo vedo Eccolo là Ma che bastardo Guarda che camper Scappa giù dritto Vai Eh ma arriva Arriva Vai Vieni qua Vieni da me Vieni da me Ma dove? No Magari No no ma c'è la cosa È uno che Tanela È uno che Tanela Prenditerò il mio posto Dai Cazzo Ah fa perdere pure la Fa pure perdere la roba Bastard Ah beh Sola anche con l'altro Oramai Non sono ancora morto Ok questo mi sta altamente sul culo Diciamolo pure Sì Ora mi curo Io mi sto curando Eh però io non posso più Farmi prendere Eh lo so Ma guarda che È così stronzo Che camper ha pure dove ho perso l'oggetto Scusa Cacchio adesso mi bannano Ah no Ha peso Luca Tarocco Che cosa Che babbaro Luca Tarocco Provaci tu da che io non posso rischiare Sì sì Io ci provo Eh da me Eh da me da me da me da me Eh so barbecue in chili questo Mi ha visto subito Ciao Luca Tarocco Adesso ti curo Dai non si dicono queste cose Vi presento Luca Non puoi più respirare sul DVD se non ti bannano No Devi morire In silenzio Se mi bannano veramente per cazzate così mi incacchio Eh è qua Sarla con me Ah allora sei tu che sei venuto vicino a noi Ciao leader Ma non mi caga No no ma vuole te Gli piaceranno Gli piaceranno le Asian No 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 Ma no Ha fatto Ma ha fatto Ma ha fregato Vabbè Me lo sono meritato qua Ho fatto una cazzata Dove ho dormito Vabbè dai impegnatevi Io me ne vado Io me ne andrei Eh Mi dispiace E se la vi La vita le La vita le E' brutta E' brutta la vita Quando c'è la gente così Eh E' già da me C'è il tuo barbecue In culo Dai Sei così Defi Che ma Defi Per non dire Cente Che Pure con quello Magari No Io quanto ho fatto per ora 8800 8800 Caduta di quei barbecue Inarrestabili Le forza brutale Ok Finiamo Vediamo Ah Ma si fa prendere L'altro Si fa prendere apposta Li sta fermo davanti Ah si Ah si Tanto dire Ci sarà L'altro Non lo fa Ah Sei per caso dove la botola Boh Non la vedo Adesso Da sta inquadratura Solo che se adesso Solo che se adesso Lo appende Io ce l'ho nel cucciolo Perché mi vede Tipo adesso Non la vedo